Ciao a tutti, io sono Andrea e vi do il benvenuto sul mio canale. Spero vi piaccia il mio nuovo video. In questi giorni di festa, dal momento che in televisione non trasmettono niente di interessante, mi piace rivedere dei classici senza tempo. L'altro ieri ho scelto di vedere uno dei miei preferiti, Assassini su Laurent Express, il film tratto dall'omonimo libro di Agatha Christie. Forse non tutti sanno che il libro è stato ispirato alla scrittrice britannica, da un terribile caso di cronaca realmente accaduto, quello che la stampa del tempo definì il crimine del secolo. È un caso di cronaca nera, molto doloroso, che si svolse negli Stati Uniti all'inizio degli anni 30, il rapimento del piccolo Charles August Lindbergh, un bambino di soli 20 mesi, da riccioli d'oro, dagli occhi azzurri e una tenerissima fossetta sul mento. Mi ricorda, per molti versi, la terribile vicenda del piccolo Tommy, di cui non voglio parlare perché sarei censurato a vita da YouTube. Il caso coinvolse la famiglia di uno degli uomini più famosi al mondo dell'epoca, l'aviatore dell'esercito degli Stati Uniti, Charles Lindbergh, colui che si rese protagonista a soli 25 anni di un'impresa mai tentata prima, un volo in solitaria dagli Stati Uniti all'Europa. Per portare a termine la sua impresa, l'uomo scelse un aereo monomotore, lo Spirit of St. Louis, e lo pretese senza paracadute o radio, quindi praticamente senza tutto ciò di cui avrebbe avuto bisogno in caso di emergenza, in modo da poter immagazzinare più benzina, tanto che i giornali lo definirono il pazzo volante. Prima di partire vi ricordo di iscrivervi al mio canale così da non perdere i prossimi video e di lasciare un commento ed un like se il video vi è interessato. Andiamo adesso ad iniziare. Lindbergh partì da Roosevelt Field a Long Island e iniziò il suo lungo viaggio verso Parigi. Quasi 34 ore dopo atterrò sano e salvo a Parigi davanti a una folla di centomila ammiratori in delirio. A Natale nel 1927 l'uomo conobbe la giovane e timida Anne Morrow a città del Messico dove il padre di lei, ambasciatore USA, l'aveva invitato a trascorrere le feste. Dopo quel primo incontro Charles invitò Anne a volare sul suo aereo, lei emozionata accettò e imparò lei stessa a pilotare un aereo. Incominciò così la loro storia d'amore. La collezione di farfalle funzionà sempre. I due si sposarono e il 22 giugno del 1930 accolsero il loro primo figlio che chiamarono Charles August Lindbergh Jr. Mentre molti americani lottavano per far fronte alla grande depressione, l'immensa fama e il successo finanziario di Lindbergh permisero alla famiglia di condurre una vita tranquilla, molto agiata e di conseguenza molto inviata. La coppia acquistò una tenuta di oltre 600 acri, quasi 250 ettari, a Hopewell nel New Jersey per crescere il piccolo Charles lontano dai riflettori. Ma purtroppo i riflettori si sarebbero a breve accesi di nuovo sulla famiglia. La tragedia stava per bussare alla loro porta. Il primo marzo del 1932, mentre Charles, sua moglie Annie e il loro terrier Vogos si stavano rilassando, una figura misteriosa riuscì ad entrare nella camera del bambino, al secondo piano della villa, attraverso la finestra, utilizzando una scala di legno artigianale e a portarlo via dalla sua culla. Gli unici indizi che lasciò dietro di sé furono delle impronte di scarpe piene di fango che conducevano alla finestra e una busta chiusa sul davanzale della stessa. La governante della famiglia, Betty Goe, aveva messo il bambino a dormire intorno alle ore 20. Quando però alle 22 tornò a controllare il piccolo, si accorse con orrore che la culla era vuota e la finestra aperta. La donna avvisò subito Lindbergh. Charles si precipitò nella cameretta, dove trovò la busta chiusa poggiata sul davanzale della finestra. Corse fuori di casa, sperando di poter raggiungere il rapitore, ma purtroppo il vigliacco criminale aveva già fatto perdere le proprie tracce. Furono immediatamente allertate le forze dell'ordine, che giunsero sul posto in meno di mezz'ora, accompagnati da alcuni giornalisti e dall'avvocato di fiducia dei Lindbergh. Gli inquirenti perquisirono ogni angolo della casa e i territori circostanti per chilometri e individuarono le tracce di un pneumatico. A causa del terreno bagnato dalla pioggia, non fu però possibile capire quale auto l'avesse lasciato e dove si fosse diretta. In un cespuglio vicino alla casa venne rinvenuta anche una scala a pioli, in legno, rotta in tre pezzi. Alla villa arrivò anche un esperto di impronte digitali che esaminò la lettera lasciata dai rapitori e la scala ritrovata in giardino, ma le centinaia di impronte digitali e di suole di scarpe rinvenute non si rivelarono utili a identificare il colpevole. Finalmente poi fu aperta la busta trovata nella camera da letto del bambino, che rivelò contenere una richiesta di riscatto, scritta in un pessimo inglese e con una pessima calligrafia. Il rapitore chiedeva 50.000 dollari per la liberazione del bambino e fu molto preciso nella richiesta. 25.000 dollari sarebbero dovuti essere in biglietti da 20, 15.000 dollari in biglietti da 10 e 10.000 dollari in biglietti da 5. Ovviamente, come ogni rapitore che si rispetti, l'uomo avvertiva i genitori di non diffondere la notizia né tantomeno di avvisare la polizia. In calcio alla lettera una firma molto particolare dei cerchi, punti e buchi sulla carta. Ma, contrariamente alle richieste del rapitore, la notizia del rapimento si diffuse rapidamente in tutta la nazione. Che ne rimase scioccata e inorridita, molte persone iniziarono a recarsi alla tenuta Lindbergh per dare una mano nelle ricerche o semplicemente per curiosare. E, neanche a dirlo, furono allertate tutte le possibili forze dell'ordine, guardia costiera, servizio educanale e addirittura il servizio di immigrazione, in modo da prevenire eventuali tentativi di espatrio del rapitore. Il team che assunse la guida delle indagini giunse alla convinzione che il rapimento fosse opera del crimine organizzato e che la richiesta di riscatto fosse stata scritta da uno straniero, probabilmente di madrelingua tedesca, scagnozzo di un qualche boss. Molti criminali d'alto profilo, però, smentirono il proprio coinvolgimento nell'orribile crimine e alcuni di essi, come Al Capone, offrirono addirittura il loro aiuto alla famiglia per ritrovare il bambino. La notizia del rapimento arrivò anche al presidente Hoover, il quale dichiarò che avrebbe smosso cielo e terra per ritrovare il piccolo Lindbergh e infatti incaricò il Bureau of Investigation, antesignano dell'FBI, ad indagare sul caso. La famiglia Lindbergh offrì 50.000 dollari a chi l'avesse aiutata a ritrovare il bambino e furono stampati e diffusi in tutti gli Stati Uniti volantiene con la foto del piccolo Charles Jr. Dopo pochi giorni arrivò a casa Lindbergh una nuova lettera da parte dei rapitori, che risultò essere stata spedita dalla zona di Brooklyn e fu identificata come autentica per la firma riportata in calce. Arrivarono anche altre lettere, sempre spedite da Brooklyn, che però, a differenza della precedente, erano firmate con la sigla B ed H. La terza in particolare informava che, avendo la famiglia allertato le forze dell'ordine, il riscatto per la libertà del bambino era salito, per punizione, a 70.000 dollari. A questo punto si fece avanti un ex maestro elementare di New York, John F. Condon, che scrisse a un giornale del Bronx per offrire di tasca propria 1.000 dollari al rapitore se avesse liberato il bambino affidandolo ad un prede cattolico. Condon, in risposta, ricevette una lettera da una persona che si presentò come uno dei rapitori del bambino, nella quale si chiedeva di fare da mediatore tra loro e la famiglia Lindbergh. Charles accettò e il giorno dopo Condon fece pubblicare un'inserzione sul giornale New York American, i soldi sono pronti, firmato Jasfe. Jasfe era il suo soprannome, derivante dalla pronuncia delle sue iniziali, e tutti rimasero in attesa di ulteriori indicazioni da parte dei rapitori. Le due parti si accordarono per organizzare un incontro notturno presso il cimitero di St. Raymond nel Bronx, a patto che il maestro vi si fosse recato da solo. Alla data concordata il maestro si regò al cimitero e il giorno dopo riferì a Lindbergh di aver parlato con un uomo dall'accento straniero che si era nascosto nella penombra e gli aveva detto di chiamarsi John, di essere un marinaio scandinavo e di far parte di una gang composta da tre uomini e due donne. L'uomo rassicurò il maestro che il piccolo Charles stava bene ed era tenuto su una barca dove sarebbe rimasto fino al pagamento del riscatto. Condon gli disse di volere una prova che il bambino fosse veramente con loro e lui gli aveva promesso che gli avrebbe fatto avere un pezzo del pigiama indossato dal piccolo. Il 16 marzo del 1932 Condon infatti ricevette un pacco contenente un pigiama da bambino e un'altra lettera. Lindbergh riconobbe il pigiama come quello appartenente a suo figlio. Appurato questo, Condon pubblicò una nuova inserzione sul giornale scrivendo «Il denaro è pronto. Niente poliziotti, niente servizi segreti. Verrò da solo come l'ultima volta». Due settimane dopo, il 1 aprile del 32, Condon ricevette una nuova lettera in cui i rapitori si dichiaravano pronti ad incassare il riscatto. Sul suggerimento della polizia, il pagamento sarebbe avvenuto tramite certificati Aurei, un particolare tipo di banconota destinato ad essere ritirato dalla circolazione a breve termine, nella speranza che il rapitore potesse tradirsi effettuando con essi grossi pagamenti o si regasse da dei cambi a valute. Venne annotato il numero di serie di ogni banconota e il tutto venne impacchettato in una scatola di legno. La notte del 2 aprile, Condon andò a incontrare il rapitore al solito cimitero. Gli disse di essere riuscito a raccogliere solo 50.000 dollari. L'uomo accettò il denaro e lasciò al maestro un biglietto con l'indirizzo del luogo in cui era tenuto il piccolo, una barca chiamata Nelly, ormeggiata nel porto dell'isola di Martha Swinier, nel Massachusetts. Appresa la notizia, Lindbergh partì subito per l'isola, ma arrivato lì scoprì che non c'era nessuna barca di nome Nelly, ormeggiata nel porto. Il 12 maggio del 1932, il camionista William Allen parcheggiò il suo autocarro sul ciglio di una strada, a circa 7 km a sud dalla tenuta di Lindbergh. Si direvesse verso un boschetto per espletare una funzione corporale e lì purtroppo rinvenne il corpo di un bambino che evidentemente era stato abbandonato lì da giorni. Ripresosi dallo shock, Allen chiamò la polizia che portò il corpicino all'obitorio di Trenton. Dall'autopsia i medici scoprirono che il bambino era stato colpito alla testa e questa era stata la causa della morte. Il resto del corpicino sembrava essere stato l'orribile pasto di animali selvatici e presentava alcune bruciature, segno che qualcuno aveva provato a bruciarlo. Visto lo stato del corpo è presumibile che il piccolo fosse morto proprio il giorno del suo rapimento. Charles Lindbergh e Betty Goe, la governante, informati del ritrovamento, si regarono a Trenton e identificarono l'assalma da una malformazione congenita alle dita del piede destro del bambino e dalla maglia che indossava. Lindbergh volle riavere subito il corpo del bambino che fu cremato. Il congresso, informato del macabro ritrovamento, accelerò l'iter parlamentare di approvazione di una legge federale contro i rapimenti per consentire all'FBI di dedicarsi alle indagini sul caso. Nel giugno del 1932 gli inquirenti iniziarono a sospettare che il crimine fosse da imputare a qualcuno molto vicino alla famiglia Lindbergh e che godesse della loro fiducia. I sospetti ricadono su Violet Sharp, una bambinaia inglese impiegata presso la famiglia della moglie di Charles, Anne, che si era mostrata molto nervosa durante l'interrogatorio a cui avevano sottoposta. Ed era accaduta in contraddizione quando le era stato chiesto dove si trovasse la notte del rapimento. Poco prima di essere chiamata a deborre in un ennesimo interrogatorio, la Sharp ebbe un crollo emotivo ed il 10 giugno del 1932 ingerì una potente dose di cianuro e naturalmente morì. Il suo alibi fu poi accertato come veritiero. La paura di perdere il lavoro e i frequenti interrogatori, che a quel tempo potevano essere lunghi e violenti, l'avevano spinta a compiere il gesto estremo. Dopo la morte di Violet Sharp, anche Condon, il maestro che aveva fatto da intermediario, fu chiamato più volte a fornire la sua avversione dei fatti alla polizia. La sua casa fu perquisita, ma non emersi alcuni indizi a suo carico. Lindbergh stesso difese il maestro, che non fu mai indagato ufficialmente, ma venne additato come un potenziale sospetto dall'opinione pubblica. Fu accusato di usare la vicenda per il suo tornaconto quando accettò di apparire in uno spettacolo teatrale inerente al rapimento e di concedere una lunga intervista al periodico Liberty, pubblicata a puntate col titolo «Jazfi racconta tutto». Le indagini sul caso ebbero una battuta d'arresto e gli inquirenti decisero allora di indirizzare i loro sforzi nel tracciamento del riscatto. Furono stampate 250 mila copie di un volantino con tutti i numeri di serie delle banconote usate per il pagamento e furono distribuite nel territorio di New York. Alcune delle banconote vennero ritrovate anche a grande distanza da New Jersey, a Chicago e a Minneapolis, ma risultò impossibile risalire a chi le avesse spese. Intanto, il 5 aprile del 1933, il presidente Roosevelt, come annunciato, ordinò il ritiro dalla circolazione dei certificati aurei e che gli stessi fossero riconsegnati alle banche entro il primo maggio successivo. Pochi giorni prima della scadenza, un uomo si presentò in una banca di Manhattan a riconsegnare una mazzetta di certificati aurei per un valore totale di 2.980 dollari, che si rivelarono provenienti dal riscatto. A quell'ora però la banca era molto affollata e nessuno fece caso al cliente in questione e non lo fermò. Nella distinta di cambio l'uomo si era firmato J.J. Faulkner e aveva dato il suo indirizzo di residenza di New York. Le autorità, su segnalazione della banca, si recarono all'indirizzo indicato ma scoprirono che lì non abitava nessun Faulkner. Si scoprì successivamente che a quell'indirizzo nel 1913 aveva vissuto una donna di nome Jane Faulkner che fu rintracciata ma non emerse nulla contro di lei e suo marito, perciò fu chiaro agli inquirenti che il nome sulla distinta era fittizio. Il 18 settembre del 1934 gli investigatori vennero a sapere che era stato speso un altro certificato aureo facente parte del riscatto. Non tutti i certificati aureo infatti nonostante le disposizioni presidenziali erano stati ritirati dalla circolazione. La banconota fu notata da un impiegato di una banca di Manhattan che l'aveva ricevuta da un benzinaio di nome Walter Lyle. Gli investigatori sequestrarono la banconota e notarono che sul margine era stato scritto a matita il numero di targa di un autoveicolo 4U 1341 New York. Lyle, il benzinaio, venne interrogato e rivelò che la targa apparteneva all'auto di un cliente che aveva usato il certificato aureo per pagare il pieno di benzina. Lui ne aveva preso nota nel timore di avere a che fare con un falsario. Le indagini appurarono che la targa in questione apparteneva ad una berlina Dodge di colore blu, intestata ad un certo Bruno Hauptmann, un carpentiare immigrato tedesco con precedenti penali in patria e un'attività poco cristallina in ambito finanziario, residente nel Bronx. La polizia si regò a casa sua, lo perquisì e gli trovò addosso un altro certificato. Nel suo caraggio furono rinvenuti 14.000 dollari provenienti dal riscatto. Hauptmann venne portato alla stazione di polizia più vicina, dove fu interrogato a lungo e picchiato dai poliziotti. Sin dall'inizio si proclamò innocente e riferì che il denaro gli era stato lasciato, in una scatola chiusa, dal suo amico e socio d'affari Isidore Fish, che era morto nel marzo del 1934, poco dopo essere tornato in Germania. Disse anche di aver aperto la scatola solo dopo la morte di Fish e negò di essere coinvolto nel rapimento. Perquisendo il suo appartamento, però, gli inquirenti rinvennero altre prove che sembravano incastrarlo. Un taccuino con gli schizzi di una scala a pioli simile a quella rinvenuta a casa Lindbergh nel 1932, il numero di telefono di John Condon e il suo scerizzo scritti sulla porta del bagno e un pezzo di legno che fu identificato come appartenente alla scala a pioli. Il 24 settembre del 1934, perciò, Hauptmann fu incriminato per estorsione e, due settimane dopo, l'8 ottobre del 1934, per l'omicidio del piccolo Charles August Lindbergh Jr. Il suo processo fu celebrato presso il Tribunale della Contea di Hunterdon nella città di Flemington e divenne un evento mediatico seguito da molti giornalisti e curiosi. L'avvocato Edward Gerrilli fu inviato dal tabloid Daily Mirror come difensore dell'imputato, in cambio del diritto esclusivo per la testata, di pubblicare la storia di Hauptmann. L'accusa venne rappresentata dal magistrato David T. Willans. Oltre ai 14.000 dollari che erano stati ritrovati nel suo garage, l'accusa evidenziò una notevole somiglianza tra la scrittura di Hauptmann e quella di chi aveva scritto le lettere di riscatto, molte delle quali, tra l'altro, erano firmate con la sigla B.H. Bruno Hauptmann. L'accusa usò come prova a carico dell'imputato anche la corrispondenza tra i pezzi di legno trovati nella soffitta di casa sua con il materiale usato per costruire la scala a pioli ritrovata a casa Lindbergh e anche il ritrovamento in casa sua dei recapiti di Condon scritti a matita su una porta che Hauptmann disse di aver annotato dopo aver letto la storia del rapimento su un giornale. Lui si giustificò dicendo di averla trovata una storia interessante e di volersela ricordare. Quando però l'accusa gli chiese come facesse a conoscere anche il numero di telefono di Condon l'imputato rifiutò di rispondere. Condon testimoniò al processo che il fantomatico John con cui aveva più volte parlato era senza dubbio Hauptmann. Un altro testimone dichiarò di aver visto l'imputato la sera del rapimento nei pressi di casa Lindbergh. Hauptmann fu giudicato colpevole e condannato a morte. La sentenza fu confermata in appello. L'uomo si proclamò innocente fino alla fine. Rifiutò una grossa ricompensa in denaro offerta da un giornale in cambio della sua confessione e rifiutò anche la proposta di commutare la sentenza in carcere a vita sempre in cambio di una sua confessione. Fu giustiziato nell'aprile del 1936 mediante sede elettrica. Dopo la morte di Hauptmann, giornalisti e investigatori privati iniziarono a sollevare dubbi sull'accuratezza delle indagini, su probabili manomissioni delle prove e testimonianze false. Negli anni Ottanta la vedova di Hauptmann, Anna, citò in giudizio per due volte lo stato del New Jersey accusandolo di avere ingiustamente giustiziato suo marito, ma i giudici respinsero entrambe le istanze. Attorno al rapimento Lindbergh iniziarono ben presto a circolare teorie alternative alla verità ufficiali. Un esperto di impronte digitali affermò che dai risultati delle sue analisi non si riscontravano impronte appartenenti ad Hauptmann su nessuna parte della scala Pioli rinvenuta quella sera. Nel corso degli anni vari libri hanno avanzato l'ipotesi che Hauptmann fosse innocente accusando i poliziotti di aver contaminato la scena del crimine. I legali di Hauptmann di non averlo difeso adeguatamente i testimoni erano ad essere affidabili. Qualcuno affermò che addirittura che Lindbergh fosse a conoscenza dell'identità del vero assassino ma l'avesse nascosta. Molti credono ancora oggi che sia stato addirittura lo stesso Lindbergh ad avere organizzato il rapimento. Pare che due mesi prima del vero rapimento Charles avesse fatto uno scherzo a sua moglie Anne nascondendo Charles Junior in un armadio affermando che era stato rapito. Stava forse cercando di vedere la reazione delle persone. Altri affermano che essendo convinto di avere geni superiori alla media non accettasse il fatto che suo figlio avesse dei piccoli problemi fisici come alcune delle dita dei piedi che si sovrapponevano e li rendevano difficile camminare e una lieva in forma di racchitismo. Quindi Charles non volendo un figlio con geni inferiori si sarebbe sbarazzato di lui. Ha confermati questa storia il fatto che l'uomo fosse diventato un grande sostenitore dell'eugenetica e di Hitler. Dopo la sua morte avvenuta nel 2003 si scoprì che Charles Lindbergh aveva avuto ben sette figli illegittimi da donne tedesche. Probabilmente voleva avere quanti più figli possibile con donne tedesche nella speranza di trasmettere a quante più persone secondo lui di una razza superiore i suoi geni sempre secondo lui superiori. Dopo l'esecuzione di Altman i Lindbergh finirono per donare la villa in beneficenza e si trasferirono in Europa dove vissero per circa tre anni per sfuggire a tutto quello che stava succedendo intorno a loro. Questa terribile vicenda ha comunque un lato positivo. Il 22 giugno del 1932, il giorno che sarebbe stato il secondo compleanno di Charles, il congresso degli Stati Uniti approvò il Federal Conducting Act, noto come legge Lindbergh, una legge che ha reso il rapimento un crimine federale e stabilì che un tale reato potesse essere punito con la pena di morte. Per oggi ci fermiamo qui, vi do appuntamento al mio prossimo video e vi ricordo, occhio a chi vi saluta sempre. Ciao. In cambio del diritto esclusivo per la testata di pubblicare la storia di Antman Antman? E Cristo con nomi di merda di pubblicare la storia di Antman? Managgia Cristoforo Colombo, quanto te odio. L'avvocato Edward Gergeli fu inviato dal tabloid Daily Mail. Sì, vabbè. L'accusa venne rappresentata dal magistrato David Willens, oltre a qui 14 Marco. Dai cazzo!